La società di danza è un'associazione culturale fondata a Bologna nel 1991, si occupa dello studio e diffusione della pratica della danza di società di tradizione ottocentesca. La frase che si dice in questi casi quando deve iniziare il waltzer spagnolo è Cavalieri, invitate la vostra dama al waltzer spagnolo. Cavalieri Cavalieri Adesso c'è il Pas de Troie, musica della Marcia del Sorriso di John Strauss, è una marcia in tempo di polca con un cavaliere due dame. Cavalieri 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 No, 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 no. No, 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 no.